L'induismo è un pensiero spontaneo che nasce ed entra a far parte di te. Ti parla. Ti invita a metterti comodo, perché alcune decisioni non si prendono su due piedi, come quando scegli a chi donare il tuo 8 per 1000 con la tua firma. Ascolta, l'induismo fa già parte di te. È la tua posizione preferita, perché vivi lo yoga e conosci tutti i suoi benefici. È nel tuo femminile plurale. È nella parità di genere che desideri, perché credi fortemente nell'uguaglianza. È nei tuoi gesti gentili perché sai fidarti, sai accogliere gli altri e attraverso la pace trasformi i conflitti in dialogo. È nelle tue abitudini, perché hai rispetto per tutte le forme di vita ed è anche per questo che scegli una dieta vegetariana. Fidati di chi crede nello yoga, di chi pratica la non-violenza, di chi crede anche in un dio al femminile, di chi rispetta ogni creatura vivente da 200.000 anni. Le nostre radici fanno già parte di te, del tuo presente. Aiutaci a trasformarle nel futuro di tutti. Do una lotto per mille all'Unione Induista Italiana. Namaste.